Buonasera a tutti, sono il presidente della Proloco Lappano, appena eletto perché sono state alle elezioni, abbiamo appena fatto lo sfoglio e sono usciti tutti gli eletti del direttivo e il presidente che sarei io. È stata una bella cosa perché siamo impegnati al massimo per riprendere la Proloco che era stata un pochino tralasciata perché nell'ultimo periodo non c'è stato grande impegno tra problemi lavorativi e quant'altro. Noi diciamo alcuni membri che ci sono attuali ne facevano già parte in passato e quindi diciamo ora che siamo cresciuti un pochino abbiamo deciso di riprendere questa cosa e di farlo sia per noi soprattutto per il paese per riprenderlo un pochino e anche per i ragazzi che poi prenderanno il nostro posto nel futuro perché è una cosa bella da portare avanti se no i piccoli paesi soprattutto come Lappano andranno a sfinire perché se non c'è niente i giovani si spostranno altrove e quindi è bello fare queste cose soprattutto per i ragazzi. Allora io sono il presidente Carravetta Vasile, vi presento adesso i nuovi organi del direttivo, Aurelio Principe, Pierpaolo Convorti, Giovanni Lacava, Anna Laura Milito, Giovanni Livrieri e Marco Siciliano e poi abbiamo i nuovi revisori dei conti che ci sono Rossella Garro e Rossella Lacava e mancano attualmente altri due membri, altri tre membri che al momento non ci sono per problemi.